Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi andrò a fare i miei pronostici sugli annunci manga del Comic-Con 2023. Ormai mancano pochissimi giorni a questa grande fiera e come sempre le varie case editrici andranno a fare i propri annunci. Non sono tantissimi come per quanto riguarda i Luca Comics, però vengono sempre annunciati dei titoli molto particolari. Diciamo che anche il Comic-Con tante volte ci riserva delle bellissime sorprese. Come sempre andrò a fare i miei pronostici divisi per i target. Andremo a vedere alcuni annunci possibili sia per lo shonen, il seinen, lo shoujo e il josei. In più andremo a vedere anche qualche possibile nuova edizione. Mi raccomando fatemi sapere nei commenti quali sono i manga che secondo voi verranno annunciati in questo Comic-Con e quelli che state aspettando di più. Partiamo dallo shonen dove abbiamo due titoli. Iniziamo dal primo che è Akanebanashi, manga shonen in corso, arrivato a cinque volumi, iniziato nel 2022. Tra i manga di Manga Plus è uno dei pochi, soprattutto per il suo grado di popolarità, a non essere ancora arrivato qui in Italia. Incentrato sul Rakugo, una storia molto interessante. Può essere un manga perfetto per far scoprire al pubblico italiano cosa sia effettivamente il Rakugo e per farci immergere un pochino di più nella cultura giapponese. Se vi ricordate bene mi aspettavo già il suo annuncio allo scorso Luca Comics che però non è arrivato. Il Comic-Con può essere un'ottima vetrina. Anche perché il manga procede molto spedito quindi c'è già del materiale da portare ovviamente qui in Italia. Mentre il prossimo manga shonen è Yomi no Tsugai di Hiromu Arakawa. La sua nuovissima opera è arrivata in Giappone a tre volumi ed è ancora in corso. Iniziato nel 2021, ovviamente l'Arakawa non ha bisogno di nessuna presentazione quindi questo potrebbe essere annunciato da Planet Manga ovviamente all'autrice di Fullmetal Alchemist. Il manga sta riscuotendo sia un ottimo successo che anche consenso. Sono usciti tre volumi però se venisse annunciato al Comic-Con sicuramente uscirà anche il quarto volume poi trattandosi di Hiromu Arakawa. È un manga che assolutamente non può rimanere inosservato quindi aspettiamoci l'annuncio che sia al Comic-Con o a Luca Comics. Io comunque me lo aspetto di più in questa fiera soprattutto perché si è conclusa di recente la nuova edizione di Fullmetal Alchemist. Quindi si potrebbe andare avanti con questo filone e portare il suo novissimo manga. È uscito poi anche di recente in Francia quindi il suo annuncio è molto possibile. Per quanto riguarda invece il Seinen abbiamo innanzitutto Aohashi. Ve lo ripropongo ancora perché secondo me è assurdo che ancora non sia stato annunciato. Dopo tutte le grandissime vendite che sta ottenendo in Giappone anche grazie ovviamente all'anime che l'ha fatto ancora più esplodere. Il manga è arrivato a 31 volumi ed è ancora in corso dal 2015. Forse è questa la cosa che un po' ferma le case editrici. Però trattandosi di uno Spokon è normale che abbia tanti volumi. Poi potrebbe essere un ottimo contendente di Blue Lock di Planet Manga. Secondo me se qualche case editrice dovesse annunciarlo farebbe un colpaccio perché andrebbe benissimo sia per quanto riguarda le vendite sia proprio per il successo che otterrebbe qui in Italia. Poi ha vinto anche dei premi prestigiosi in Giappone. So anche che moltissimi di voi lo stanno aspettando quindi speriamo che il Comic Con sia la volta buona. Sempre per quanto riguarda il seinen un altro possibile annuncio è Skip to Loafer. Manga seinen di Misaki Takamatsu è arrivato a 8 volumi ed è ancora in corso in Giappone. C'è l'anime proprio super recente con una stagione che sta venendo molto apprezzata. È una commedia e anche in Giappone sta ottenendo davvero dei grandi consensi soprattutto anche dalla critica. è stato nominato a vari premi, nominato nel 2020 al Manga Taisho poi il Kodansha Manga Award nella categoria Miglior Manga Generale ed è stato nominato anche nel 2022 e soprattutto quest'anno quindi potrebbe ancora vincere. E nel 2020 è stato anche raccomandato dalla giuria del Japan Media Arts Festival come uno dei migliori manga di quell'anno considerando l'insieme di fattori quindi sia l'anime sia il successo sia la parte critica. Io credo proprio che dobbiamo aspettarci questo annuncio e sarei anche molto curioso di leggere il manga. Per quanto riguarda gli shoujo anche qui ne abbiamo due. Il primo è il sequel di Fruits Basket, cioè Fruits Basket Another che io già posseggo con l'edizione inglese, si è concluso di recente sia in Giappone sia con l'edizione americana. e incredibilmente non è mai arrivato qui in Italia probabilmente per le condizioni di salute di Natsuki Takaya dato che l'ha completato di recente ed è il sequel effettivo di Fruits Basket completo in solamente quattro volumi. L'annuncio dovrebbe essere da parte di Planet Manga l'ultima casa editrice ad avere i diritti appunto dell'opera che sarebbe a mio parere un annuncio fantastico per tutti i fan di Fruits Basket. Invece l'altro manga shoujo è Honey Lemon Soda ve lo ripropongo anche in questo video. Honey Lemon Soda è semplicemente attualmente tra i manga shoujo in corso il più venduto di tutti arrivato a 22 volumi ed è ancora in corso dal 2016 ma il manga di Mayu Murata è assolutamente quello con più consensi in assoluto per quanto riguarda lo shoujo attualmente. Anche questa è impronta scolastica e sentimentale che cosa mi fa ben sperare che venga annunciato qui in Italia semplicemente perché è uscita da pochissimo l'edizione inglese. Ha già superato i 10 milioni di copie complessive io ho già letto gran parte del manga e vi posso assicurare che ha realizzato molto bene. Tra i manga incentrati sulla parte sentimentale soprattutto recenti è assolutamente uno dei migliori. Speriamo in un suo eventuale annuncio sarebbe fantastico per lo shoujo. Mentre invece per quanto riguarda i Josei un possibile annuncio è un manga di Setona Mizushiro dato che a J-pop si libera lo slot di Chocolatier dato che ormai finisce a breve potrebbe essere annunciato Nunai Poison Berry scritto da Setona Mizushiro tra il 2009 e il 2015 completo in un totale di 5 volumi. Sarebbe fantastico per andare ad approfondire ancora di più Setona Mizushiro J-pop ci ha portato anche il gioco del gatto e del topo Star Comics After School Nightmare Ronin Manga Black Rose Alice In questo caso in quest'opera troviamo i classici elementi che sono andati a distinguere Setona Mizushiro e potrebbe essere anche un ottimo modo per seguire un filone con Chocolatier. Per quanto riguarda invece il secondo manga Josei che spero venga annunciato abbiamo un manga di Akiko Higashimura vi sto parlando di Tokyo Tarareba Mosume questo è più un mio piccolo sogno perché spero che Akiko Higashimura venga sempre più approfondita qui in Italia è stato portato finora a Kura Game da Star Comics e il meraviglioso Disegna Kakukaku Shikajika da J-pop ma è un'autrice così incredibile così valida con tantissimi titoli alle sue spalle che sarebbe anche difficile capire che cosa portare questo però può essere un buon compromesso infatti la serie ha un totale di 9 volumi scritta tra il 2014 e il 2017 uno dei manga più rappresentativi anche dell'autrice Ligashimura deve essere approfondita e soprattutto deve essere fatta scoprire al pubblico italiano che è uno stile unico con varie influenze soprattutto come riesce ad usare nei suoi manga la parte comica all'introspezione dei personaggi è sempre la cosa che più mi ha affascinato soprattutto per come riesce a descrivere l'animo e i sentimenti umani quest'opera va a prendere anche questo filone io spero veramente che venga annunciato però ripeto questo è più un mio piccolo sogno per quanto riguarda invece le nuove edizioni con un annuncio possibile abbiamo la prima quella di Kenny il guerriero speciale dei suoi 40 anni può essere annunciata l'edizione cartonata americana quella mastodontica e sarebbe davvero l'edizione definitiva di Ken se ne è parlato tantissimo anche allo scorso Luca Comics tutti ci aspettavamo l'annuncio di questa nuova edizione che purtroppo non è arrivato e se venisse annunciata al comico sicuramente sarebbe tra i migliori annunci della fiera la seconda edizione invece potrebbe essere di Star Comics dato che di recente si è conclusa l'edizione Collector's Edition di Carcaptor Sakura sempre per le Clamp la nuova edizione di Magic Knight Rayart che serve assolutamente qui in Italia se venisse annunciata quella inglese speciale dei 25 anni con il cofanetto sarebbe un qualcosa fuori dal comune anche se devo ammettere che praticamente tutte le opere delle Clamp hanno bisogno di quella che è una nuova edizione infatti mi era gioco tra Magic Knight Rayart e quella di Chobitz la Perfect Edition e per concludere questo video sui pronostici abbiamo l'ultima nuova edizione che è quella di Ana Yori Dango perché Ana Yori Dango? anche questo molto molto difficile però anche a Planet Manga si libera uno slot per quanto riguarda lo shoujo cioè quello di proteggi la mia terra dato che si conclude tra pochissimo quindi può essere realmente proposta una nuova edizione per quanto riguarda un manga shoujo e dato che parliamo di Ana Yori Dango cioè lo shoujo più venduto di sempre in Giappone con una Kanzeban Edition che sta aspettando solamente di essere annunciata è bellissima con un grande formato quello giusto che si merita un'opera come Ana Yori Dango mi raccomando non buttiamola nel dimenticatoio e dato che Planet Manga proprio per quanto riguarda le nuove edizioni sta puntando attualmente molto su questa corrente degli anni 90 sarebbe a mio parere l'annuncio perfetto quindi per questo video è tutto mi raccomando fatemi sapere nei commenti i vostri pronostici se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace lasciate un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video noi ci vediamo al prossimo video per i prossimo video Grazie a tutti